Comincio questo libro con questa descrizione. Autunno, autunno cupo, un paese che è sull'orlo del baratro finanziario, che ha chiesto l'aiuto del Fondo Monetario Internazionale per salvare la sua valuta. Di fronte a un declino industriale inarrestabile, a un aumento del costo della vita minaccioso, a una disoccupazione rampante. Che paese è questo? Italia 2012 direi. Era l'Inghilterra 1979. O anche l'Argentina che tu hai ricordato con la bella canzone di Madonna. Allora, quel paese si è trovato di fronte a questa tragedia, il famoso The Winter of Discontent, l'inverno dello scontento, scespiriano, e lo ha affrontato questa signora di ferro, soprannome che non le hanno dato gli inglesi ma i sovietici, come sai, e di cui lei astutamente si è impadronita subito, capendo che questo avrebbe fatto la sua fortuna. E la cifra di questa signora è la determinazione nel perseguire la sua politica. La frase che la consegna alla storia, come sapete, è The Lady is not for turning. La signora non torna indietro. The Gentle of Discontent A habita di questa signora non torna